Sebbene si creda che la caccia al trofeo sia un'opera di conservazione, ora in realtà da un recente studio è emerso che non lo è. In Pakistan, per esempio, le prede cacciate dal leopardo delle nevi sono le stesse prede cacciate anche dai turisti che vanno lì per portarsi a casa la testa di stambecco. Il leopardo delle nevi, quindi, non sapendo più cosa cacciare, si ributta sulle specie più facili, quelle domestiche, quelle dei pastori. I pastori, quindi, vedendosi minacciati dal leopardo delle nevi, lo uccidono, andando a mettere maggiormente in pericolo una specie già notevolmente a rischio di estinzione. Questo conflitto tra popolazioni locali e grandi carnivoli sicuramente non è un'opera di conservazione. Quindi la caccia al trofeo non in tutti i casi può servire per la salvaguardia, anzi, in alcuni casi, se non la maggior parte, è un pericolo.